Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultima giornata del girone d'andata. Un turno che ci ha riservato alcune sorprese. In vetta la classifica, l'Inter continua a vincere, 1-0 in casa contro il Torino, una partita maschia e spigolosa, un Inter meno scintillante del solito, che sudando riesce a battere un Toro, non pericolosissimo dal punto di vista offensivo, però sicuramente tenace. Un Torino che ha fatto la sua solita partita contro le Big, rende la vita difficile senza però riuscire a portare a casa dei punti. Una vittoria non brillantissima dal punto di vista del gioco, però comunque molto, molto pesante per i Nerazzurri. Dietro, l'unica che tiene un pochino il passo e che, secondo me, è l'unica che davvero può cercare di strappare lo scudetto all'Inter è Milan. Milan che vince 4-2 sul campo dell'Empoli, una partita piacevole e divertente, un risultato che potrebbe far pensare a una vittoria netta e dominante da parte dei rossoneri, che però va contestualizzato. Perché? 4 gol del Milan, sì, però di questi 4 gol, uno su papera del portiere, l'altro su un calcio di punizione dove era messa male la barriera, l'altro ancora su uno svarione difensivo. Quindi, direi, un Milan più concreto che dominante contro un Empoli che comunque ha fatto la sua onesta partita. Aveva anche iniziato bene, però ha pagato degli errori difensivi. Un Milan non stellare che però, come ho appena detto, a mio modo di vedere è l'unica squadra che può tentare di strappare lo scudetto all'Inter. L'Inter è decisamente favorita per la vittoria del titolo. Se dovesse crollare, l'unica che secondo me ha le carte regole per provare a vincere è il Milan. Non tanto dal punto di vista della rosa, ma perché mi pare quella che abbia di più la mentalità vincente. Il Napoli poi perde 1-0 in casa contro lo Spezia, risultato a sorpresa. Non ho visto la partita, ho visto un po' così gli highlights, ho letto i commenti, ho sentito gente dire che il Napoli è stato sfortunato, che non meritava di perdere perché ha dominato. Sì, ha avuto in mano il pallino del gioco, ha fatto la partita e ci mancherebbe anche. Giocavi in casa contro lo Spezia, però insomma là in avanti si sentiva l'assenza di una prima punta. Due gol annullati, una traversa. Le assenze nella squadra di Spalletti ci sono, ma questo non può essere un alibi. E il fatto che hai perso contro lo Spezia poi, che ha segnato con un'autorete e poi non ha mai tirato in porta, ti rende questa sconfitta, a mio modo di vedere, ancora più grave, perché non sei riuscito a sfruttare la tua netta superiorità nei confronti dell'avversario. L'Atalanta invece pareggia 0-0 in casa del Genoa. Una partitaccia, una partita in cui ho visto una Dea con le polveri bagnate in attacco, ha poi mancato il morso negli ultimi metri. Un'Atalanta in calo dal punto di vista fisico, contro un Genoa che ha giocato per fare 0-0 e alla fine ha fatto 0-0, mettendo comunque in mostra quelli che sono i suoi limiti. Dietro la Juve vince 2-0 in casa contro il Cagliari e si porta a meno 4 dal quarto posto in classifica occupato dalla stessa Atalanta. Sembrerebbe, e sottolino la parola, sembrerebbe una buona classifica, una classifica accettabile, però è un caso che ti trovi a meno 4 dall'Atalanta perché nelle ultime due partite ha fatto un punto. Poi guardiamo anche la partita della Juve contro il Cagliari. Solita gara, una Juventus minimale e lenta dal punto di vista del gioco, crea poco in fase offensiva e poi sull'1-0 ha anche rischiato di subire il pareggio. Quindi insomma, facciamoci delle domande sul perché si abbia poca fiducia in questa squadra. Una Juve che, nonostante tutto, secondo me, qualche possibilità di arrivare in quarta ce l'ha. Non perché sia una squadra fenomenale, ma perché potrebbe andare come l'anno scorso, ovvero che una di quelle davanti s'ammazza da sola e la Juve, da squadra più esperta, ne approfitta. La Roma invece non va oltre un insipido pareggio 1-1 in casa contro la Sampdoria e non riesce a dare continuità alla vittoria contro l'Atalanta del turno scorso. La Fiorentina fatica, però alla fine riesce a ottenere un discreto 1-1 sul campo dell'Ellas Verona, rimanendo in una buona posizione di classifica, al momento sesta assieme alla stessa Roma. Bene la Lazio, che vince in trasferta 3-1 sul campo del Venezia. Il mio Sassuolo poi perde 3-0 in casa contro il Bologna. Una sconfitta prevedibilissima, come vi avevo detto nel video dei pronostici. Non ho visto la partita perché ero fuori per delle commissioni, ho letto qualche commento qua e là, ho visto gli highlights, ho visto qualche sprazio del secondo tempo quando c'era un Sassuolo veramente poco lucido con un Bologna che chiudeva gli spazi. Prendiamo 3 gol, uno più snervante dell'altro, il primo con una difesa veramente all'acqua di rose, il secondo con, su calcio d'angolo, con una difesa proprio in modalità presepe per essere, dato che siamo a Natale. Terzo gol, un pacchetto col fiocco, sempre rimanendo in tema Natale, un gol regalato da una nostra rimessa laterale. Ho sentito poi tanti commenti dire eh ma se il pallo di Scamacca entrava? Sì, con il senno di poi siamo capaci tutti, io non lo so, devo vedere la partita per poter dire la mia veramente, però insomma il Sassuolo contro le medio-piccole quest'anno ci è abituato che può anche andare in vantaggio ma poi abbassa il baricentro finisce per prendersela nel culo quindi insomma non lo so. Ho sentito poi anche gente che ha bisogno della 104 a dire, meno male che ci sono il Cagliari, il Genoa, la Salernitana e lo Spezia, ci bastano 10 punti e siamo salvi, gente veramente baccata nel cervello. Comunque sia, ripeto, devo vedere questa partita per poter fare una valutazione. Oggi e ieri, oggi non ho avuto tempo magari stasera, domani sì, non lo so, comunque un risultato che ti fa capire come questo Sassuolo sia ancora una squadra poco concentrata, non sul pezzo dal punto di vista mentale, discontinua e che vivrà una stagione così, una stagione di alti e bassi, però comunque ci può stare, è il primo anno con il nuovo allenatore, magari nel girone di ritorno qualche posizione riusciamo a recuperarla, perché insomma, tra quelle squadre nel blocco di metà classifica siamo, a mio modo di vedere, quella con la rosa più forte, le altre magari smetteranno di giocare, non che alla fine cambi così tanto da un dodicesimo ad un decimo posto in classifica, però comunque finito il girone d'andata guardiamo un po' la classifica. Discorso Scudetto, Inter nettamente favorita, solo lei può perderlo con il Milan, unica squadra che vedo credibile come alternativa ai cugini nerazzurri. Dietro Napoli Atalanta terzo quarto posto con la Juve unica che può strappare un piazzamento Champions ad una delle due. Lazio e Roma personalmente le vedo un po' indietro lì sesto settimo posto in classifica con la Fiorentina che può dire la sua può approfittare di un crollo di una delle due per entrare in Conference League un po' come aveva fatto il mio Sassuolo l'anno scorso. Poi c'è questo blocco di metà classifica dall'Empoli al mio Sassuolo squadre che rimarranno grosso modo in quella posizione lì di classifica si alterneranno una domenica avanti una una domenica avanti l'altra squadre più forti di quelle che lottano per non retrocedere ma non tra parentesi ancora pronte per lottare per un posto in Europa. Lotta Sampdoria Udinese le vedo lì a navigare a metà classifica un pelo più sotto lotta salvezza invece che come dico sempre sarà un affare tra le ultime cinque aspettando di sapere cosa succederà alla Salernitana il Venezia sta facendo bene però è una squadra secondo me ancora un po' acerba discontinua ci sono partite che perde o perlomeno non vince per errori suoi lo Spezia vincendo Napoli si è portato in una buona situazione però ancora un girone tutto da giocare ed il livello della squadra non è di certo fenomenale Cagliari e Genoa aspetterei a darle per spacciate perché insomma il Genoa alla fine non sa neanche lui come però riesce a salvarsi il Cagliari ha una squadra non dico da salvezza tranquilla però tra le ultime quella più attrezzata quindi insomma staremo a vedere magari con un cambio di allenatore riprendendo semplici la stagione potrebbe svoltare in positivo Salernitana invece a prescindere da quello che succederà se la escludono dalla Serie A o no mi sembra un caso perso veramente non vedo nessuna possibilità per i campani di poter mantenere la categoria anche se dovessero finire il campionato va bene ragazzi questo è stato un po' il riassunto dell'ultima giornata di Serie A fatemi sapere cosa ne pensate io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube a seguirmi su Facebook a seguirmi su Instagram a lasciarmi un commento a lasciarmi un piace a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisvero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi